Il convegno si intitola Una giustizia certa, la giustizia e soprattutto la scienza e la tecnologia al servizio della giustizia, in quanto si presenteranno per tre giorni in questa maratona varie tematiche. Arezzo per tre giorni, capitale delle scienze forensi. Dal 24 al 26 ottobre all'Hotel Minerva si svolgerà infatti l'ottavo congresso nazionale dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi dal titolo Una giustizia certa, scienza e tecnologia al servizio delle indagini. È un'occasione molto importante per la nostra città in quanto l'Accademia delle Scienze Forensi, preseduta dal generale Luciano Garofano, quest'anno ha voluto dedicare non solo alla memoria della signora Luciana Ferraguti, nostra benefattrice, questa giornata, ma ha voluto scegliere proprio Arezzo per avere un punto centrale in modo che tutti gli studiosi, tutti gli scienziati e tutti i personaggi importanti, anche mediatici, possono confluire in un unico punto per mettere a disposizione del curioso, dello scienziato, dello studioso e della magistratura, tutta e di tutti gli operatori del Tribunale, il sapere sopra questa importante branca degli studi per la giustizia. Dalla giurisprudenza alla psicologia giuridica, alla medicina legale, alle intercettazioni telefoniche e anche e soprattutto il sabato dedicato alle forze di polizia. Quindi vari argomenti che si susseguono, come ad esempio il venerdì è dedicato alla prima parte alla giurisprudenza, con oratori d'eccellenza. Ci saranno anche nomi del calibro del generale Garofano, che non ha bisogno di presentazione, ma l'ingegnere Paolo Reale, tanti altri nominativi che voglio lasciare quasi nascosti perché veniate in abbondanza. È un'occasione formativa ma anche aperta alla cittadinanza? Ovviamente sì, è formativa per quanto riguarda l'avvocatura, perché concede dei punti, diciamo, dei crediti formativi. Però è aperta anche la cittadinanza. Bisogna accreditarsi attraverso il sito dell'Accademia, dove ci sarà il rilascio di un biglietto gratuito e questo biglietto farà sì che verrà rilasciato alla fine anche un attestato di partecipazione.